Cari amici ben ritrovati, una depressione si sta centrando sul meridione, ma la circolazione d'aria instabile coinvolgerà tutto il paese con qualche precipitazione. Nella notte su sabato una goccia fredda penetrerà dal Golfo del Leone verso la Sardegna, determinando un'accettazione delle stabilità lungo i versanti tirrenici. Domenica l'instabilità si localizzerà sul meridione, mentre altrove tornerà il sereno. Da lunedì una vasta saccatura coinvolgerà all'ovest del continente, sfiorando il settentrione, dove si verificherà dell'instabilità almeno fino a mercoledì. Sul resto d'Italia, invece, dominerà l'influsso stabilizzante dell'alta pressione e da martedì 12 all'estremo sud è atteso un'ondata di caldo che entro fine settimana si estenderà a tutta l'Italia con un anticipo d'estate e picchi prossimi in alcune zone anche superiori ai 30 gradi. Vediamo adesso il tempo per la giornata odierna. Nuolosità è regolare con locali piogge su tutte le regioni, rovesci più intensi su est Sicilia e Calabria in estensione ovunque. Sulla nostra provincia è prevista pioggia con locali schierite. Le temperature si porteranno ai 18 gradi nei valori massimi, previsti alle ore 16 e minimi alle ore 6 del mattino di circa 14 gradi. venti moderati soffieranno da ovest e da ovest nord ovest nella sera con il mar nello stretto di Messina tra il poco mosso ed il molto mosso. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 15 con un valore UV di 2,7. Sul versante tirenico brevi rovesci schierite, le temperature si porteranno ai 18 gradi diurni e 14 nella notte ed i venti moderati soffieranno da ovest nord ovest con il martirreno tra il mosso ed il molto mosso. Sul versante ionico nuvolosità sparsa. Le temperature si porteranno ai 20 gradi le massime e minime di 14 e i venti moderati soffieranno da nord ovest con il marionio mosso. Nella giornata di sabato 9 aprile è moderata instabilità su Sardegna, regioni tirreniche, su tutte le zone interne appenniniche da nord a sud e su Valpadana centrale con possibili acquazzoni e brevi temporali. Sulla nostra provincia giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schierite, con temperature massime di 17 gradi alle ore 12 e minime di 13 alle ore 6. Venti moderati soffieranno da nord ovest con intensità di 34 chilometri orari e di meri saranno tra il mosso ed il molto mosso e il tirreno poco mosso lo ionio. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 11 con un valore di 4,9 UV. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.